Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi, siamo qua al nuovo video questo video, non lo stavo facendo, non è un gameplay questo qua è l'attacco errore, il prossimo roger suya che faremo ok, sono insieme al mio compag house qua e... bella scusate, 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 prendo un po' di vetro io per ricordare che c'è vetro beh, se no, guardate, scusate, scusate, scusate ho sentito un rumore strano, io ho sentito un rumore qua e io e mio compagno, e mio compagno abbiamo scoperto che cazzo è quel rumore questa qua diciamo che la zona di lag è subito proprio perchè questa qua è la zona in cui c'è lag e quella merda che c'è rumore è quella merda viola se non so se dovete vederla, quella là compagno, sono io, Terone, oppure il tuo scan ancora in pausa? sei il tuo coglione ok ok, adesso si è caricato e cosa? è quella merda là, e quello lì dovrebbe essere l'end e si trova nella città dell'end, sì sì, dove sono le parche è quello che ti sa quello lì? se ti trova i pezzi giusti, vabbè, ti trova sola eeeh, per fare lì, qualche droppa ok, zain zain vogliamo sapere perchè c'è lag, voglio vedere che questa qua è la zona di lag giù, come queste merda qua, se ti compiscono, ti fanno volare, allora due le città non ti compiscono eeeh, questo è il bello ciao, si sono Roger, sentite nel giorno, diciamo qua, su Roger subiva il perro eeeh, sì, so ragazzi che ultimamente sto caricando solo questo, perchè sì, mi piace giocare a Minecraft, cosa volete, mio canale, io gioco a Minecraft, perché mi piace, ok? ok allora ci sono tante cose nuove a dirvi, tipo beh, potete dire che ho anche due livelli di esperienza allora, quello che ci sono ragazzi eeeh, sono andato giù e c'era un buco, sono caduto e c'è la lava sotto, perchè mai scavare in giù ragazzi e mi sono bruciato, ho perso la libera dell'esperienza che era tanta e allora, vabbè, cercheremo di un altro modo per riprendere l'esperienza il problema è che quando sono morto, che comunque avete l'idea che manca un po' di armatura, tanto c'era il camion, vedete qua quando sono morto, eeeh, non sono spawnato qua, sono spawnato lontano, tipo se ho spawnato all'inizio, ma non sapevo che era lì eeeh, in quel momento c'era caos, che stavamo parlando su skype e mi è venuto l'ansia perchè non trovo più casa, se io non trovo più casa nel secco del secco del secco del secco, mi viene in mente di fare una nuova stagione porca, ho trovato insomma, suonline con il matzo e tutto quanto, è successo un casino allora sono ritrovato, ho ritrovato casa, meno male, grazie a dio intanto ho perso anche le mie patate, potete vedere che ho perso un po' di tutto quando vedo che dopo sono morto, sono, meno male che c'erano ancora i miei materiali, sono andato a prendere ho costruito un ponte, dopo sono andato a dormire, sono andato a dormire, sono andato a dormire e non c'era più il ponte ma c'erano i miei, c'erano di nuovo i miei materiali, e io mi sono duplicato le cose, non so perchè non c'erano tutte cose strane qua eeeh, prima di tutto c'erano un patate che non ne ho ah, non so se avevo detto lo scorso episodio che mi sono trovato un nuovo mascotto, lo chiamato KAUS KAUS questo mi risponde fino ok, ci servono patate, perchè è una cosa prima si, si, tagliam 4 allora, da parte di cercare un modo per prendere più esperienza e ragazzi non sapete cosa ho trovato in sua casa familiare perchè fosca ho trovato un sacco di cose non ci si cuoce ok, allora eeeh ah il episodio oggi andiamo a costruire queste cose qua sono cose fighe intanto vi faccio vedere quella c'ho dopo vi faccio vedere questo minera ah, prima di tutto vi deve essere a costruirci queste cose qua eeeh questo è un problema questo è un problema questo è un problema qua per la sala tv allora questa qua la rompiamo eeeh 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 non so se si sta registrando scusate funzionerà lo comproviamo il prossimo episodio perchè è un casting molto difficile e nel prossimo episodio comproviamo se funziona ok e quando faccio 3 serie allora non so se poi faccio vedere con le mie non so se va perché se vuoi fare è un problema è ci sanno la terra mentre la terra e il tavolo di encantamento ci serve ossina e per prendere l'ostigiana ci serve il piccone di diamanti ragazzi sono tutto pronto qua tutto calico perchè mi sembra poco di registrare ultimamente qua erogiswvvpro potete vedere che ultimamente non sono fatto il bisogno di erogiswvvpro se non mi piace non posso non mi piace perchè mi piace se vuoi non mi piace e guardate il video mettete like e lo posite allora completate ecco 3 diamanti allora ci facciamo piccone ok ok lo facciamo qua prendiamo queste petate che sono forte qua dopo ora si facciamo un piccolo pause perchè oggi canteremo qualcosa per dirò sicuro canteremo qualcosa cosa sto facendo vedete che non mi fa più il formaggio ok non mi fa più il momento non mi fa più il momento mi fa più il momento allora va bene, va bene, va bene con il ripostante mangiamo si mangia bene adesso se ti dico l'acqua non va bene ok, dopo farò più tra poco ho fatto un po' di esperienza allora, qua ragazzi non so se cosa faccio vedete che ho rotto quattro domande che non so cosa faccio ho fatto questa porta a questo episodio dopo niente basta su tutto quanto ah, ho fatto la nostra camera questo è l'allevamento di mucca perché ci siamo tanto che voglio fare i libri e non sapete il casino che ci ho messo per il trattore di questo episodio allora, potete vedere che ho migliorato questa zona qua la nostra camera caos quando sono morto allora andiamo giù potete vedere che ho messo le scale andiamo giù è più facile per scendere e salire tutto quanto ragazzi la prima cosa che mi spiace è che vabbè quasi allora così è che mi è venuto un infarto ho riempito di torce potete vedere e ho lasciato tutti i materiali per prendere un doji e allora allora questo piano lo spettiamo spettiamo allora vedete che sono un sacco di esmeraldi ok 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 non spero che non sia di notte 200 oranio ah, ho trovato anche di diamante perfetto 100 oranio spero che sia di giorno perché non voglio combattere a ver Prendiamo un diamante Eh sì, ci serve, ci volevo più incantare il piccone per poter prendere più diamanti, ma non possiamo perché ci sono due diamanti per fare il tavolo di caffi, allora non possiamo Non mi ricordo dove erano gli altri diamanti del piccone Che stavo dicendo non mi ricordo, ma vabbè Allora, ci serve quasi per prendere più di un altro diamante Ok, ci sono due diamanti ragazzi per fare il tavolo di incantamento No No Ok Adesso metterei un po' di cose Intanto attacchiamo le cose, vediamo Un po' di cose Ok Ok Adesso ragazzi, cucchiamo tutto, voglio andare a mangiare le cose, e sicuramente prendo un po' di esperienza Ci vediamo adesso Ok ragazzi, non sapete quanto tempo è passato, sono passate delle ore eh, lo dico ovviamente Guardate, guardate con l'esperienza, o porca vacca, o po' di cose che bevo, o po' di cose che ho fatto Allora, ho dato anche da mangiare le mucche, ho aspettato che crescono un paio, ho dato da mangiare E' ora di ammazzarle E' ora di ammazzarle Piccolante Allora, adesso metto a cuocere un po' di questa carne qua E direi che 20 di livelli sping si può passare E ho preso anche Un po' di dietro di pelle Allora, perfetto Lì dovrei mettere a cuocere questa carne qua Qui c'è un po' di esperienza nella questa carne E ci iniziamo a costare i libri E ci serve anche legno Molto Grazie Non so se siamo più che nel duro, no? Ok, ah sì, tutto quanto che abbiamo avuto sono pochi Cioè, abbiamo fatto quanto... sette librerie Non sono tante cose Allora cercheremo di mettere... Prendiamo una palla per fare un po' più facile Si chiamano un libro fuori Forse mi incantino quello Ma lì il piccolo più bello Uno, due Se si rompe Qua sono tre Il piccolo diciamo più bello Uno Tre Il piccolo Sì, un piccolo E un piccolo Con il divino Un piccolo Lì è anziato che si mi mano è uno che non lo mettiamo qua ok io credo che così si può essere cantata di qualcosa no? vediamo tipo con il... si dai, si può essere cantata di qualcosa oggi ho pensato che la carne è Lynn prendiamo il pickastory, la gassi è il primo incantamento della serie che? che? io voglio stare anche in caos allora andiamo con il piccone incantiamo il piccone se è una buona scelta cosa è questo qua? efficienza efficienza, efficienza 1 efficienza efficienza, cosa serve? efficienza? non mi ricordo no 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 eh... incantamento la squadra ok effettivamente, contacolpo incantiamo il cifre con il cifre dai attenzione l'efficienza è vasta ma di solito ti toccano qualche cosa se mettiamo l'arco indistitibilità potenza 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 si può cantare lo scudo? no magari allora l'efficienza sarebbe quello di rompere il più veloce no allora lasciamo qua le cose andiamo a prendere quei piccoli quei diamanti sono rimasti giù e finiamo l'episodio ah è vero che dobbiamo uccidere anche i corpori allora andiamo a uccidere anche i corpori con il cifre con l'incantato andiamo giù correndo veloce 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 l'efficienza è sbaglio quello lì che è eh... scava più veloce allora sì, prima, anche dopo aver ucciso quello lì volevi fare uno scambio con il villaggio perchè ci sono cose buone perchè se mi hanno dato un'idea di cosa barattano i villager e barattano cose buone ok 3,3, diamanti buono buono se fai un altro piccone cantare già il piccone allora torno a... no però piccole pause so già che questo episodio è lungo non so quanto dopo farlo di tagli sicuramente allora non so comunque mi piace intanto giocare di nuovo questa serie qua allora cliccando solo quello in italiano allora siamo qua i diamanti diciamo questo il piccone lo teniamo qua andiamo a dormire, mangiamo prima se non so io c'è uno che... smeraldo con un libro ti davano qualcosa in cambio buono 8 smeraldi e un libro bisogna vedere ok ok si scusate per la pausa ma guardate questa cosa che mi encanta questo qua fortuna questo è buono è venuta da parte dei villager così questo qua vedete questa qua è buona lo scambio è finito 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 è finito l'ultimo episodio ok allora spero che questo video vi sia piaciuto mettetelo spesso iscrivetevi al canale se siete descritti eeeh commentate se volete altri episodi di rossi che trovo anche se li trovo più frequentemente perché mi piace mi piace non guardiamo perché non vogliamo hater allora eeeh l'ultimo episodio è qua perché la batalla la batalla finale la batalla finale ecco ora in fondo non ancora non capisco perché è qua non ancora non capisco perché l'ultimo episodio lo scambio è finito non capisco non capisco da l'ultimo episodio non capisco eeeh non capisco la batalla non capisco la batalla la batalla la batalla non non lo sconti non non guarda il acqua guarda il acqua pervo guarda per la vista non ho guarda tutto che dico se ti fa un acqua porto fanno in un dino ora guarda niente niente no o no o no Ok, non ho detto tutto quanto e ci vediamo al prossimo episodio Bye